È un progetto ambizioso che coinvolge tanti comuni, quindi siamo orgogliosi che stanno aderendo a questa rete, tanti comuni marchigiani, ma anche comuni che vengono da fuori regione, dalla Calabria, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dall'Umbria. Quindi è un progetto culturale che vuole valorizzare i nostri territori attraverso la figura di Francesco Di Giorgio Martini, l'architetto senese, che ha operato in molti comuni marchigiani e d'Italia e siamo anche soddisfatti che nel Consiglio regionale di ieri è stata votata all'unanimità un emendamento proposto dalla Commissione Cultura, a cui l'iter è stato seguito dal consigliere regionale Baiocchi. La votazione all'unanimità ha portato il piano triennale della cultura della Regione Marche ad accogliere questo importante progetto, quindi siamo soddisfatti e ringraziamo il Consiglio regionale. Diciamo ad andare un po' nello specifico di cosa si propone questo progetto. Intanto abbiamo firmato un protocollo di intesa tra tutti i comuni, proprio per la promozione culturale delle opere che sono state realizzate dall'architetto Francesco Di Giorgio Martini. Ora il passo successivo sarà quello della realizzazione di una piattaforma. Abbiamo già condiviso con tutti gli altri comuni il sito internet, quindi a breve verrà presentato a tutti e verrà aperto. E poi da lì partiranno una serie di iniziative a livello nazionale e anche la ricerca di fondi e finanziamenti per portare avanti il progetto.